Buonasera e ben trovati dintorno alle 9, ultima puntata di quest'annata. Questa sera parliamo del centro Pecci e dei 30 anni del centro Pecci. Lo facciamo insieme alla direttrice Cristiana Perrella. Buonasera. Buonasera. Direttrice, allora dicevamo appunto 30 anni, un traguardo importante. Cosa ha rappresentato per la città e soprattutto cosa vuole rappresentare il centro Pecci per i prossimi 30 anni per la nostra città? Ha rappresentato il desiderio di Prato di porsi come città dell'innovazione, del nuovo. Questo 30 anni fa, ancora oggi credo che valga lo stesso discorso e che il Pecci incarni bene questo desiderio di contemporaneità e di futuro. Ovviamente per celebrare questa ricorrenza è stato stilato un po' un piano di iniziative. Le prime riguardano il weekend prossimo, 22, 23 e 24 giugno. Che cosa succederà? Beh, innanzitutto quella è la reale coincidenza con il trentennale, il Pecci aprì il 25 giugno 1988 con la mostra Europe Now. Quindi abbiamo deciso in questi tre giorni di segnalare quelle che saranno poi anche le linee future di attività del museo. Quindi partiamo il 22 venerdì al Macrolotto Zero con un doppio intervento. I manifesti di Yoko Ono che già avete visto in città, sono questi Dream, affissi in vari luoghi del Macrolotto. E il 22 proprio la performance di Rainer Ganal. Si tratta di un progetto che coinvolge molte realtà di Prato, dall'azienda Marini a Chincaleri, alle manifatture digitali cinema, a Dryphoto. E fa parte di un progetto di regione, comune e università che intende riqualificare alcune zone della città attraverso la cultura. Quindi non più telecamere di sorveglianza, non più controllo, ma più pensiero e più creatività. E ci ha sembrato appunto una cosa importante come attitudine da segnalare proprio come una delle nostre anche linee guida per il futuro. Poi dopo il 22 e il 23 avremo invece una giornata che si svolgerà interamente proprio al centro Pecci, con una serie di attività didattiche dedicate alle famiglie, non solo, gratuite. E poi un panel, una discussione aperta proprio sul ruolo del museo, a cui parteciperanno Edoardo Nesi, la giornalista Alessandra Mammì, Maurizio Nannucci, io ed altri ospiti, proprio raccontando quello che il Pecci è stato e quello che sarà. E la sera ripartiamo con una cosa a cui tengo molto, che è la ripresa del programma di concerti estivi del Pecci. C'è una tradizione molto lunga e gloriosa che quest'anno ritorna con sei appuntamenti. Il primo sarà gratuito, proprio la sera del 23, con il concerto di God Bless Computers e poi il DJ set di Numa Crew. Dopodiché fino al 13 luglio avremo altri sei concerti molto diversi tra loro, da rock al rap al jazz. E' un programma molto vario che spero riporti al Pecci un pubblico che magari da tempo non era più abituato a frequentarlo. Chiudiamo questi tre giorni con il 24, domenica, giorno di San Giovanni, un intervento a Firenze che segnala un lavoro che stiamo facendo con l'artista Loris Cecchini. A Firenze Loris installerà sulla facciata del Galleria Hotel in piano centro storico un suo lavoro ad anticipare la presentazione a Prato a settembre di un suo lavoro che è stato acquisito dal Comune di Prato e che verrà appunto inaugurato in occasione proprio delle altre celebrazioni del trentennale che avverranno dopo l'estate. Ecco appunto lei ha fatto riferimento a un'altra delle novità, ovvero la riapertura dell'anfiteatro con i concerti che ritornano appunto al centro Pecci dopo un periodo d'assenza. Ha fatto riferimento anche a un'altra piccola anteprima, ovvero a settembre, quello che succederà a settembre perché ovviamente poi le celebrazioni proseguiranno nei limiti del possibile perché immagino che qualche cosa vogliate comunque tenere ancora riservato. Cosa succederà a settembre? Ci saranno nove allestimenti? A settembre apriamo il 6 settembre con l'allestimento di una mossa dedicata a un grande collezionista pratese che è Alessandro Grassi, un collezionista che ha scomparso prematuramente qualche anno fa e che ha donato al Pecci, ha dato, incomodato al Pecci una parte importante della sua collezione, altre parti sono in musei altrettanto importanti in Italia. Quindi dedichiamo a questa figura un approfondimento che sarà la prima parte del riallestimento dell'intero museo che stiamo facendo proprio in occasione del Trentennale, un riallestimento con cui il museo si racconta e riguarda un po' la sua storia, il suo passato, cerca di tracciare, di mappare il suo DNA attraverso le opere più importanti e tutto un lavoro anche di approfondimento che non vi anticipo qui ma che sarà molto interessante e che stiamo facendo in collaborazione con l'Università, con il Dipartimento di Statistica dell'Università. Ovviamente questo è un traguardo importante come dicevamo ai 30 anni e diciamo che anche nel futuro prossimo ci saranno altre tappe importanti per il museo in quanto struttura perché comunque è stato interessato certamente da una ristrutturazione, da un ampliamento importante, manca però ancora una parte, che tempi ci possono essere? Siamo addirittura d'arrivo perché una parte importante che è il Bar Bistrò aprirà entro l'estate a luglio e entro la fine dell'anno consegneranno il primo spazio per la didattica, noi abbiamo uno straordinario Dipartimento di Didattica che in questi primi due anni è stato un po' nomade nelle varie sale del museo, adesso finalmente riavrà la prima delle sue due sale, quindi da gennaio saremo in grado di partire con un programma di didattica proprio a pieno regime e dentro l'estate prossima tutto il resto verrà consegnato, quindi la seconda aula didattica, due sale polipon funzionali e anche il CID e la biblioteca torneranno alla piena funzionalità che avevano prima dei lavori di ristrutturazione. Tra l'altro anche un altro elemento interessante è legato alla web tv, perché appunto dicevate che volete incrementare l'attività della web tv rispolverando, mi passo questo termine, dagli archivi filmati e comunque interviste d'epoca fatte ad artisti, ma non solo. Sì, questo lavoro che stiamo facendo di approfondimento e ricerca proprio sui nostri archivi, abbiamo trovato materiali straordinari, proprio video, quindi con interviste a Mario Merza, Enzo Cucchi, tutti i grandi artisti che sono passati per il museo e non solo artisti. Per cui approfittando della web tv e del fatto che abbiamo ora all'interno del museo delle professionalità assolutamente all'altezza, stiamo facendo un lavoro di riediting, ripulitura e pian piano in un format che abbiamo chiamato Pecci Vintage, riproporremo questi materiali insieme a tanti materiali nuovi, perché la web tv sta lavorando a produrre nuovi documentari, materiali, alcuni li potete già vedere sul sito perché sono stati recentemente messi online. È un lavoro di ripresa anche del passato e della memoria che mi sembra importante come proprio anticipazione di quello che sarà il futuro. Ed è un lavoro che stiamo cercando di fare anche in collaborazione con i Pratesi, perché abbiamo lanciato questo concorso fotografico che si chiama Pecci Flashback, che tra l'altro si conclude proprio lunedì 18, quindi vi invito a partecipare numerosi, mandando al museo delle foto del Pecci realizzate dai cittadini in questi 30 anni, quindi foto dell'edificio, delle opere, dei personaggi che al Pecci sono passati, foto di famiglia che abbiano il Pecci come sfondo. E abbiamo una giuria interessante che sceglierà la migliore di queste foto, è una giuria composta da Giovanni Veronesi e da Marco De Logu che è un grande fotografo ed è stato per 10 anni il direttore del Festival Internazionale di Fotografia. Adesso ha una mostra a Palazzo Fabroni a Pistoia. Lei ha fatto riferimento appunto al rapporto con i nostri concittadini, crede da questo punto di vista che anche nel futuro il museo debba lavorare di più sotto questo fronte di vista, ovvero cercare di incrementare ulteriormente il proprio rapporto con la città? Moltissimo. Io credo che il recupero anche degli spazi del museo che sono destinati a quella che io chiamo la vita quotidiana, quindi la didattica, gli spazi comuni, il bar, la stessa biblioteca, cioè i luoghi di incontro dove i cittadini possono venire anche non necessariamente per guardare una mostra ma per incontrarsi, per fare delle altre cose, perché oggi un museo propone una serie di attività a 360 gradi, soprattutto un museo come il nostro che ha all'interno così tante funzioni. Quindi credo che nel recupero di questa modalità di relazione con la città ci sarà senz'altro una possibilità di riprendere, incrementare il rapporto proprio con i cittadini. Quando è stata nominata direttrice è venuta qui, proprio in quei giorni, a distanza di qualche mese. Che idea si è fatta del Pecci, visto che ha potuto comunque toccare con mano la situazione e si trova comunque a dover gestire anche un anniversario importante come quello dei 30 anni. Che situazione ha trovato e soprattutto qual è magari lo spirito che volete affrontare per il futuro del museo? Mi sono trovata una situazione anche molto più stimolante di quella che immaginavo, cioè le potenzialità del museo sono veramente tantissime e credo possa diventare uno dei centri culturali più importanti in Italia, senza dubbio, proprio per queste molteplici funzioni che accentrano in un unico luogo. Il rapporto con la città è un altro punto interessante perché Prato è una città che sta cambiando molto, che sta puntando, come dicevo, molto sull'innovazione. Quindi credo che le sinergie con uno spazio come il Pecci possano essere tante. La filosofia con cui affrontiamo questo futuro davanti a noi è quella di una massima apertura. Mi piacerebbe un museo che diventa veramente una piazza della città, un luogo aperto a tutti, quindi che guarda a pubblici molto diversi e cerca di offrire a ciascuno qualcosa che sia importante. Bene, io ringrazio davvero la direttrice del Centro Pecci di averci fatto compagnia, di aver parlato con noi dell'anniversario del museo, ricordiamo il 22 di giugno, quindi la prima iniziativa che poi proseguiranno anche per tutto il corso dell'anno. Lasciatemi concludere con due parole per la trasmissione, visto che questa è l'ultima puntata della stagione, con i ringraziamenti di risa, a cominciare dal direttore, dalla regia, dai tecnici, dalla redazione, a tutti coloro che hanno reso possibile queste cento e più puntate, che sono state tante e a questo punto ovviamente un ringraziamento anche a voi tutti a casa che ci avete seguito in questi mesi, ci rivediamo in autunno e chissà, magari ci rivediamo anche con lei direttore. Certo, intanto buone vacanze. Grazie e buon lavoro a voi, buon prossimo interserate. Grazie a tutti.